Cava Ferro Prodotti Siderurgici offre cortesia e professionalità. Vienici a trovare in via Cesaro Giovanni X, Cava dei Tirreni. Dramma ieri pomeriggio alla frazione San Pietro di Cava dei Tirreni. Un uomo di 68 anni, imprenditore del settore edile, avrebbe tentato di togliersi la vita con un colpo di pistola alla testa. Il fatto si è verificato intorno alle 15.30 di ieri, quando un colpo di arma da fuoco, partito dalla pistola regolarmente detenuta dall'uomo, ha rotto il silenzio della zona in cui si trova l'abitazione del 68enne, al confine tra le frazioni di San Pietro Croce e la località Maddalena. L'uomo è ora in coma al reparto di rianimazione dell'ospedale Ruggi di Salerno e le sue condizioni sono disperate. La famiglia dell'imprenditore è molta conosciuta nella città metelliana per l'attività edile che svolge ormai da decenni. Un paio di anni fa, la famiglia era stata già sconvolta dalla prematura perdita del primo genito, trovato morto nell'abitazione di famiglia ad Agropoli. I carabinieri della locale tenenza, diretti dal tenente Vincenzo Pessolano ed i militari del reparto territoriale di Nocere Inferiore, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Grazie a tutti.